Oggi 26 dicembre, Santo Stefano Domani parto per Belgrado, domani partiamo 27 dicembre, si parte Ci sentiremo da Belgrado Dove farò ovviamente dei vlog Da lì farò il discorso di Capodanno Ovviamente, mi raccomando, la prossima Alessandro, il cuginetto di Stefano Arrivato da Milano Fatelo sentire, parla milanese L'accento milanese Sentire, è indecifrabile Vedete Stefano E Alessandro Che ammirano La piscina Artificiale Bravi Mi piace perché non capite niente che vi dite Però state insieme Mi hanno portato in Tita Vai, vedi Milanese strittica E perché? Milanese strittica Guardate che giornata di sole 27 dicembre Stupenda Sì, vedi, vedi, andiamo? Andiamo Sì, vedi, andiamo Sì, vedi, andiamo Sì, vedi, andiamo Mi serve il tempo per farlo mangiare Vuole sapere a che ora partiamo domani? A che ora vuoi partire? Dipende Tu guidi Eh, a che ora? Tanto mi sveglio alle 6 7 All'8 8 e mezza Yamash Tu ti svegli solo quattro di tuo figlio sveglia? Eh Al contrario del mio video fino a domani pomeriggio Ho capito Sveglia alle 7 Lui, 7 e mezza Penso che partiremo domani signori e signori Va, me la voglio azzardare Ha da mangiare a Stefano? Eh, va bene, devi fare il tempo per bere latte a meno Eccoci tutti Niente Rioscia fresca stamattina Vai Steffi, butta Vieni Ale Ecco i tre cuginetti che zuccano il succo di frutta Il più piccolo Pibo Francesco Ciao Sta buono Stefan Incazzato E Ale Ciao amore In preparazione per Belgrado Vedete Le valigie sono qui Siamo pronti ragazzi Mi raccomando Auguratemi un buon viaggio Ci sentiamo da là